Il pezzo del trio si attinge ad eseguire è Ave Verum di Mozart. Il pezzo del trio si attinge ad eseguire è Ave Maria. Il pezzo del trio si attinge ad eseguire è Ave Maria. Il pezzo del trio si attinge ad eseguire è Ave Maria. Il pezzo del trio si attinge ad eseguire. Il pezzo del trio si attinge ad eseguire.